La polizia Il primo mezzo sanitario non ha grosse indicazioni dalla centrale operativa se non che si tratta di un incidente stradale con più auto coinvolte Mi sentono le batterie? Il primo mezzo sanitario non ha mai avuto Il primo mezzo sanitario non ha mai avuto il suo lavoro Il primo mezzo sanitario non ha mai avuto Il primo mezzo sanitario non ha mai avuto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.